Il concetto di leggerezza, plasmato sotto forma di buste al vento o bolle di sapone che si gonfiano, Francesco Granito lo trae da Italo Calvino. Quella forma di levità che per lo scrittore significava non superficialità, ma al contrario volare molto più alto, lo scultore lo inserisce in opere che sono ossimori. Da una parte le forme eteree di merletti e origami di carta, dall'altra i materiali pesanti come il marmo e la pietra. Sono queste le dissonanze in mostra alla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia fino al 7 maggio. Francesco Granito ha un percorso quarantennale in cui ha messo sempre in evidenza il contrasto tra la realtà e la finzione. Mai come nella scultura questo contrasto diventa più forte perché mettere la pesantezza dei materiali e la leggerezza dei titoli, questo è tutto legato a un concetto anche della dissonanza e dell'opposto. Francesco Granito, originario di Apricena, vive a Bari ma il suo è uno scenario internazionale. Il titolo dell'esposizione, Dissonanze, si riferisce a un percorso improntato sulle contrapposizioni. Le parole usate per raccontare i concetti diventano lo scontro eterno tra realtà e finzione.